Uno sforzo importante ma anche una grande soddisfazione potremmo riassumere così il Ferragosto di Arezzo TV a Porto Santo Stefano per la settantottesima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario trasmessa in diretta televisiva sul digitale terrestre satellitare e streaming Paolo Mastracca con il periodo televisivo a tutto lo staff di Arezzo TV l'impegno è stato massimo in tutto sette le telecamere che hanno seguito la manifestazione sette occhi televisivi posizionati in luoghi strategici per raccontare al meglio la gara dall'alto l'occhio di drone Arezzo che è stato particolarmente attento a regalare suggestioni al tempo stesso Patos per la gara agonistica un impegno di oltre una settimana di lavoro che si è concretizzato in una diretta fiume di oltre sei ore consecutive nel salotto di Paolo Mastracca si sono alternati ospiti istituzionali giornalisti ed esperti tecnici in migliaia ci avete seguito in contemporanea i messaggi alla nostra redazione sono stati da ogni parte del mondo Londra, Cile, Grecia, Marocco e ovviamente la Toscana e altre regioni d'Italia che dire solo un grande grazie all'amministrazione comunale di Monte Argentario e all'Entepaglio per aver creduto nella nostra struttura ma soprattutto a tutti voi che con il vostro affetto e la vostra avvicinanza ci date la spinta per continuare a raccontare la Toscana e le sue più importanti manifestazioni